Bella ragazzi, preparati tutti oggi in questo mio nuovo video Oggi ragazzi sono qui con questo spacchettamento proprio cattivo Perché sono appena usciti da 6 minuti se non sbaglio Da 6 minuti i pacchetti da 100k Ovvero i pacchetti quelli più grandi che esistono dai tempi dell'Ultimate Team Ovvero quelli dove puoi trovare 24 giocatori tutti ore e tutti rari E decido appunto di fare questo spacchettamento Perché comunque abbiamo un 3-4 giocatori del Team of the Season, della MLS Che sono veramente buoni Che superano comunque il valore di 100k Come Defoe, come Demsey, come Harry E comunque ce ne sono anche altri Magari trovi anche qualche argento tipo Besler E quelli valgono anche un milione E soprattutto è uscito Ramsey, Man of the Match Anzi Second Man of the Match E Zlatan Ibrahimovic Ci dà il valore qui sulla Playstation di più o meno 9-10 milioni Quindi una roba veramente incredibile Però sicuramente noi non andremo mai a trovare un Zlatan Ibrahimovic Ma ci accontenteremo di un giocatore buono Quindi niente ragazzi Io sono qui appunto sul primo pacchetto a 100k Ed è andato Mettete mi piace ragazzi e andiamo a trovare qualcosa di buono Dai un bel mi piace ragazzi Questo si schippa Oh Spam Qui davanti vedo merda Divayo, De Santi, Samu Andiamo Jefferson Che bello Sbattita Serna Kahil Sahin Abele Hernandez Non vedo niente di buono Fazio Godin Meness del Milan Lul Oscar Assaidi David Villa Niente ragazzi 100k Schifosissimi Mi hanno trovato David Villa Anzi mi hanno trovato Oscar Che varrà se no tra 4.000 crediti E Giulio Cesar Che invece lui qualcosa vale di più Essendo il periodo appunto del Come si chiama Del Della MLS del torneo Qui andiamo a scartare tutto per un 15.000 pipponi di crediti Andrò ad aprire altri due Credo pacchetti sull'altro account Il mio cane piange Andrò ad aprire il secondo pacchetto da 100.000 Creditozzi Andrò questo si vede però io non lo guardo Niente skip Dai Uno Al mio cane li guardo Uno Due Tre Allora vedo già un Sergio Ramos che poi Trashoras Che cazzo è sto Trashoras Nani che qualcosa vale Sergio Ramos Ammels Ammels Andiamo in fondo ragazzi Vediamo cosa Ibarbo Pisellone E Diego Costa Diego Costa Un pacchetto Comunque discreto Diego Costa 6-7.000 crediti Ammels Uguale E se non sbaglio sui 15 Non voglio dire una puttanata E la nì 4000 Il resto se non sbaglio si può andare a scartare Ibarbo Un cazzo Un cazzo Un cazzo questo skipiamo Sbam Podolski Belli sti pacchetti Hernando Hernando Scutinio Varane E va Un cazzo Un cazzo Un informe Che ha anche delle statistiche 4-6-6 No 3-6-6 Anche giovane Ha delle buone statistiche Un if comunque Nel primo account Manco quello abbiamo trovato Quindi Pensate un po' voi Adesso andiamo a Vendere il tutto E andiamo ad apprestarci Ad aprire il Secondo Pacchetto Vediamolo Vediamolo Dai 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 Lo voglio vedere questo Un bel mi piace ragazzi Sbam Un cazzo Ciao Oh Che pacchetto ragazzi Che pacchetto Falcao Lloris E va ancora Incredibile Alonso Mamma mia Che pacchettino Bello questo Un toz E va Due volte Begnat Lloris E Falcao Pacchettino Niente male Signori Andiamo a scartare il tutto E andiamo ad aprire questi 4 pacchetti Da 7-5 Dove poi Aprirò Sempre i pacchetti Nel secondo account Per forza Ogni volta che vengo qua Trovo Tozzo Andiamo qua Oh 91 velocità Garai Ehm Pacchetto discreto Andiamo ad aprire il terz'ultimo Poi dipende dai crediti che ho da spendere Starridge Starridge Buono Più un pacchetto Del mondiale Mondiale Tanto qua Non ci gioco Quindi Lo possiamo scartare Bellamente Ah Quindi altri Forse Altri tre pacchetti Sì Altri tre pacchetti Questo è il terz'ultimo Tadich Ma sto attento Oh Un if Ma che culo Ragazzi Cocorrendo Fione Ma che culo Questi pacchetti Veramente strafortunati Ragazzi Mamma mia Sarà il joy Pallate che figata Mamma mia Due if Gli stessi E un team of the season Qui chi trovo Kurani Dawson Qui niente di buono Va bene così Abbiamo Riesco ad aprire un pacchetto No Manco da 5.000 Va bene Ne abbiamo uno Argento Sarebbe proprio il colmo Se adesso trovasse un tozza Argento Mi metta a piangere Anche il man of the match Niente Oh Brogliata però vale Non scattatelo mai Brogliata perché vale Niente ragazzi Il video finisce qui Abbiamo trovato In totale 4 if Se non sbaglio Nei pacchetti A 25.000 4 if Ora 50.000 Cos'erano Non mi ricordo più Abbiamo trovato comunque 4 if Un team of the season E un bel falcao Che è 50k Li vale Niente ragazzi Il video finisce qui Io vi invito a lasciare un pollicione Fatemi vedere che ci siete Anche se siete in vacanza Un salutone da Palaz Da Mama Palaz Che è dietro che non si fa vedere Bella Niente ragazzi Il video finisce qui Alla fine del video Dopo questa piccola clip Vi lascerò qualche altra immagine Di if E toz Che ho trovato Mentre Mentre stavo registrando Ma mentre non stavo Reccando La mia faccia Niente ragazzi Mi hanno trovato tantissimi If Tantissimi toz Io spero che comunque Anche se È ferragosto Quindi vabbè Vi faccio gli auguri Diciamo di buon ferragosto A tutti Anche se è ferragosto Vi invito A vedere questo bel videozzo E lasciare un bel pollicione Noi ci sentiamo Ad un prossimo video Bella Ciao